La prostata e le patologie ad essa correlate, l'incontinenza che affligge sia l'uomo che la donna ed anche le nuove metodiche di indagine endoscopica in ambito urologico. Sono queste le argomentazioni di cui tratteremo nella puntata di giovedì prossimo di Missione Salute Marche Nord Istruzioni per l'Uso. In studio i medici del reparto ed il dottor Valerio Beatrici dell'Unità Operativa Complessa di Urologia di Marche Nord. Parleremo di come siamo organizzati, di come ci siamo organizzati tra Pesaro e Fano e anche Muraglia dove ci troviamo in questo momento per poter erogare un servizio all'utenza, al cittadino, alla popolazione che sia in grado di offrire soluzioni a 360 gradi ai problemi urologici, problemi urologici, problemi andrologici. Parleremo quindi di come la maggior parte delle attività ambulatoriali e la chirurgia di dei sergioli venga fatta a Fano e come la chirurgia a complessità medio-alta sia fatta a Pesaro, di come fare per fare una visita urologica e di quali sono i tempi per un ricovero, di quelli che sono i tempi di un'adegenza ospedaliera per i principali interventi che vengono fatti in ambiente urologico. Come sempre nella seconda parte della puntata voi telespettatori potrete rivolgere domande ed osservazioni direttamente ai medici ospiti in studio attraverso le telefonate chiamando Fano TV allo 0721 86 1433 dalle 20.45 in poi dopo il Tg. Occhio alla notizia.